Musica Ehi, salve a tutti per ritrovati in questo nuovo punto end con Apple Zane Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo punto end della serie unboxing Ma io non aspettavo nessun pacco Cioè, nessuna azienda mi aveva contattato per dirmi Sai Mirko, oggi ti stiamo mandando un pacco E mi è arrivato un pacco a sorpresa Tanto che pensavo che fosse qualcosa che avesse appunto ordinato io In realtà non è così Io l'ho già aperto perché pensavo appunto che fosse una cosa mia Ma vi faccio vedere cosa c'è al suo interno Allora, carta Carta Che vado a buttare Ancora carta Che vado a buttare Lo scatolo che vado a buttare Ok E una cosa che onestamente non mi aspettavo Perché vi ripeto Ste aziende di oggi su Amazon Cioè ormai si stanno girando il mio indirizzo di casa Per mandarmi prodotti E che mi fa tantissimo piacere Cioè, a prescindere da tutto Però, almeno avvisatemi Comunque Mi hanno mandato questa Vediamo se si vede Sì E l'ho mandato questa Che è una action cam In full HD Della Ape Man Non so come cacchio si pronunci Credo ovviamente di sì Ma L'andiamo ad aprire insieme Andiamo ad aprire insieme perché Voglio farvi vedere almeno Che cos'è Anche perché Quando è un solo prodotto Va bene Poi vi ripeto Non me l'aspettavo Allora la fotocamera è 14 megapixel Lo leggo qui Ha un angolo di visuale di 170 gradi Una batteria da 120 minuti 1050 ampere Uno schermo LCD da 2 pollici E waterproof fino a 50 metri profondi Da buono, 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 buono Andiamo ad aprire Niente troppo inquadratura ragazzi Perché A proposito Sto vendendo la mia videocamera Vi lascio qui sotto in descrizione Il link del mercatino di Apple Z Lo trovate ovviamente anche in ogni video E nel mercatino sto vendendo la mia videocamera Con annesse batterie supplementari Se volete Acquistarla Ditemelo Come cacchio si apre Aspettate che ho Che pacchetti fanno Scusami Non scorre Non scorre Non Ma che cacca Non si apre Ok allora facciamo una cosa Prima che Io distrugga Tutto tutto Facciamo la foto La scatola Perché poi Se no Ok fatta Tutto in diretta Perché se la rompo Poi non posso tornare indietro Ma che cacca Non scivola ragazzi Non Ok sta scivolando Madonna ma è È durissima Ma che cacca Aspettate un attimo Metto tra le gambe È brutto da dire È brutto da dire però Tranquillo Ma che cacca Non scivola Ok Ok ci sto riuscendo Madonna mia Ma che cazzo di scatole fate Ma per favore Appeman Come cacchio ti chiami Ma Già la scatola non mi piace Mi fa puzza di fumo Tra l'altro Cioè Dove cacchio è stata Sta scatola Ma non Non esce Guardate non esce Non esce Ma che cacca Ok va a capire Ok facciamo così Teniamolo fermo Ok Madonna mia Un'impresa Vi giuro Un'impresa Ok Apriamo questa scatola Ok Madonna che puzza di fumo Che fa Ok qui abbiamo Un talloncino Per la garanzia Ma non ce ne frega Oh Bella Bella la custodia Ah ti danno anche la custodia Bello C'è tutto dentro questa custodia Nella Appeman Puzza di fumo Ma Che cazzo fate Ma io non lo so Oh mio zio Ma che Allora Ragazzi Vorrei farvi notare Quante cose ci sono Guarda Questa è la L'action cam E ci sono un miliardo di cose Cioè Tutti i gadget possibili Immaginabili Mamma mia Aspetta che Tiro fuori l'action cam Che è dentro il suo pacchettino Qui Dentro la sua custodia È questa qui Che tenere È carina C'è anche il display No bello Ovviamente ragazzi La testerò E Ve la farò vedere Presto Io come al solito ragazzi Vi saluto Vi ringrazio Per aver visto questo nuovo video Come al solito Arriviamo a cento di piaci Nel prossimo episodio Iscrivetevi E commentateci Vi chiamo al prossimo punto Siamo qui con Mirko Per Apple Zain Ciao Grazie a Apple Zain Puoi usufruire Fino al 60% Di sconto Sui prodotti Amazon Ed il link Lo trovi Qui sotto in descrizione O sotto al logo Del nostro sito Apple Zain Punto net